Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Matteo Bassetti continua a essere bersaglio di un clima d'odio sempre più insostenibile. Il noto virologo ha denunciato l'ennesimo episodio increscioso proprio in queste ore. Tra le minacce ricevute, una delle più gravi è stata «Voglio, parola irripetibile, tua moglie», un messaggio che ha deciso di rendere pubblico, postando sui social le foto degli ultimi messaggi offensivi ricevuti dagli haters. Questa volta, infatti, le minacce non hanno risparmiato nemmeno i suoi cari. «Vi rendete conto?» «Sono senza parole», ha commentato Bassetti, visibilmente sconvolto, durante un'intervista. Il direttore dell'ospedale policlinico San Martino di Genova ha dichiarato con indignazione che questi episodi non sono affatto isolati, ma piuttosto un'esperienza quotidiana per lui. In passato, Bassetti si è rivolto più volte alle forze dell'ordine per denunciare gli insulti ricevuti sui social, ma purtroppo queste prese di posizione non hanno portato ai risultati sperati nel lungo termine. E voi cosa ne pensate di questi episodi sempre più frequenti verso Matteo Bossetti e la moglie, ma soprattutto, quale potrebbe essere i motivi o di questo odio verso un medico? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.